Buongiorno, sono Michele Surace, sono professore di malattie dell'apparato locomotore presso l'Università degli Studi dell'Insubria. Il corso di laurea di fisioterapia è uno dei più antichi e storici di questo Ateneo ed è uno da sempre dei più richiesti. La professione di fisioterapista richiede solite competenze scientifiche che vengono acquisite progressivamente durante il corso di laurea. Si passa dalle materie scientifiche di base, quale la fisiologia e poi la fisiopatologia, per poi nelle fasi più avanzate del corso impostare quelle che sono e apprendere le metodologie di trattamento. Le attività di tirocinio formativo potranno essere svolte nell'ampia rete formativa estesa dall'Ateneo, metodica che permetta allo studente dell'osservazione di differenti strategie e pertanto un arricchimento di quello che è il proprio bagaglio culturale. Al termine del corso di laurea lo studente può intraprendere diverse carriere. L'entrata nel mondo del lavoro può fornire sbocchi di tipo, diciamo, riabilitativo vero e proprio, in centri sia privati che privato convenzionati. In alternativa sarà possibile avvicinarsi al mondo dell'industria lavorando come consulenti per lo sviluppo di ortesi e o di attrezzature protesiche per i pazienti che ne necessitano. Tra le caratteristiche sicuramente predisponenti a una buona carriera accademica e a una sicura riuscita professionale troviamo la propensione allo studio, troviamo la predisposizione all'attività manuali, troviamo una facilità nella comunicazione e nei rapporti interpersonali. Completano il quadro del fisioterapista perfetto una spiccata tendenza all'empatia, una sensibilità personale, capacità organizzative e predisposizione al lavoro interdisciplinare. Scegli Insubria, scegli oggi il tuo domani. Ciao a tutti, sono Federico, studente del primo anno di fisioterapia all'Università degli Studi dell'Insubria. Ho deciso di iscrivermi a fisioterapia perché avendo praticato molto sport ho subito parecchi infortuni e di conseguenza mi sono sempre fatto aiutare da un fisioterapista e questa figura mi ha aiutato molto nella fase riabilitativa. Ho scelto l'Insubria perché il numero chiuso permette un giusto rapporto con i professori. Il rapporto tra studente e docente va oltre classico rapporto universitario favorendo quelli che sono gli interessi di noi studenti. La figura del fisioterapista è molto ricercata e questo pone delle ottime basi per entrare nel mondo del lavoro il prima possibile. Scegli Insubria, scegli oggi il tuo domani.